Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi svuota la spesa Eurospin Abbiamo fatto una spesa grandissima Abbiamo speso un sacchissimo E niente, quindi adesso parto subito a farvi vedere quello che abbiamo comprato Eravamo io, Sabrina, Giorgia Allora abbiamo preso due pacchi di queste crocchette per il cane Queste qui, pollo, riso e cereali Due confezioni di tovagliette americane Poi un pacco di fusilli, questi qui da un chilo Una confezione di scottex, questo verde della Soft Dream Poi sei yogurt bianco magro Sette confezioni di fiocchi di latte E poi le bambine hanno scelto gli yogurt Hanno preso al caffè, uno solo alla vaniglia, non so perché Gli altri alla stracciatella Poi ho preso delle banane Che sicuramente mangeremo come frutta per pranzo Per Gabriele ho preso questi yogurt alla soia Al mirtillo E che sono senza glutine Ne ho presi sia così che al naturale Poi dopo ve li faccio vedere Qua abbiamo preso delle zucchine Dei cetrioli Poi mi sembra quattro broccolini Che uno più abbucato Che uno più abbucato Quattro confezioni di fagiolini Che erano in offerta Poi del pane Così pane proprio pane Da tenere anche un po' il freezer Perché magari certe volte lo facciamo noi E ok Però tante volte magari non abbiamo il tempo E quindi avere del pane già pronto è utile Poi delle melanzane Per fare delle pizzette Volevo provare a farle alla piastra In padella invece che nel forno Dei funghi alla pizzaiola Da portare domani da mia sorella Poi la salsa tonnata Una per noi e una da portare da mia sorella I funghi alla contadina Da portare da mia sorella Leva col pane Il latte per pia Sempre questo qui Delle prime pappe Ne abbiamo presi sette Poi questa confezione di hamburger Da portare domani da mia sorella Poi questo qui è cremoso alla soia Che vi dicevo senza glutine Bianco Così Gabriele se vuole Ci può tagliare della frutta Oppure aggiungere dei cereali E niente Quindi le ho preso anche questo Poi come gelati Le ho preso queste barrette Panna e cocco Che sono buone Per Gabriele e Maurizio I coni alla panna Poi per noi sempre Questi biscotti Il tornado Che erano in offerta E i big choc Questi qui bianchi Con mandorle Che uno lo mangerò io E poi Per provare a farlo Nell'air frayer Ho preso un pollo Intero Surgelato Vai Poi come pane Abbiamo preso Vari tipi Pan bauletto Otto cereali e soia E questo qui integrale Poi ne ho presi anche altri Ve li faccio vedere dopo Perché non mi ricordo E non mi ricordo neanche Quanti ne ho presi Ma tanto in fondo Vi lascio poi lo scontrino Come al solito Con i prezzi Poi invece Come affettati Abbiamo preso Arrosso di tacchino Che è senza glutine E il prosciutto crudo Dai vai Poi le mollette Per il bucato Perché mi spariscono Poi siccome Avevamo un po' sete E avevamo bisogno Di mettere qualcosa In corpo Abbiamo preso Questi yogurt Da bere Loro Sabrina e Giada La fragola Giorgia L'ace E io invece La banana Allora Poi ho preso Quest'insalata Poker Veramente non volevo Prenderla Ma ormai l'ho presa Quindi La mangeremo Già pronta A raccogliere Quattro confezioni Di cotto Dadini Di cui Una o due Le portiamo Da mia sorella Le altre Invece Le teniamo a casa Poi qui Ci sono i pomodori Da portare Da mia sorella Domani Poi Arrosto Di petto Di pollo E prosciutto Cotto Scelto I sacchetti Della spazzatura Abbiamo preso Questi rosa E questi gialli Grandi Da 110 litri Poi Lo zucchero bianco Il condimento Per pasta E riso Questo qui Con tonno Poi ho preso Quattro di yogurt Greco Per me Questo condimento Per pasta E riso Senza olio I cuori Di iceberg Ne abbiamo presi Tipo Quattro O sei Confezioni Le carotine A julienne Mi sembra Tre Confezioni Gli hamburger Questi qui Di suino Senza glutine Per Gabriele Per domani Da portare Da mia sorella Il tonno Al naturale Ne abbiamo preso Quattro confezioni Il latte Parzialmente Scremato Cinque confezioni Poi ho preso Tre sacchetti Da due chili Di perine Erano in offerta A 0,99 Al chilo Allora ho preso Quelle Questo qui È il condimento Per pasta e riso Con vius Il che vi dicevo Uno L'ho preso Da portare Da mia sorella Uno invece È per Da tenere Noi Poi abbiamo preso Come formaggio Il masdam Ho preso io Questi due pezzettini Di masdam Piccolini Che vanno bene A mettere Nell'insalata Di riso Poi Le pennette Rigate Le mezze penne Rigate E le penne Rigate Però in confezione Da un chilo Mentre invece Queste qui E le pennette Sono mezzo chilo Poi Quattro confezioni Di uova Queste qui Dieci medie Tieni Sabrina Poi Due maionese Tre pesti Che però Questo qua Gabriele e Maurizio Non lo possono mangiare La cipolla In granuli E l'aglio in granuli Perché li abbiamo finiti Qui un po' Di fruttini Per pia Gli spaghetti Confezione da un chilo Due confezioni Di pane Questo qui American sandwich Da fare al mattino Tostato E pazzesco Devo riprendere A fare la mia colazione Cinque pacchi Di mozzarella Queste qui Quattro per cento Venticinque Che due Le portiamo domani La mia sorella Tre Anzi Il riso Originario Sempre da portare La mia sorella Per domani Poi Il gouda Elemental Bavarese Poi Ho preso Il pacco Di riso Questo qui A chicco lungo Quello da Cinque chili Ci troviamo benissimo Perché essendo tanti Lo mangiamo spesso Poi Un saccone Da due Da due chili Di mele Il gel Per la lavastoviglie Il succo Di frutta Alla pera E all'albicocca Il formaggio Da mettere Così Nell'insalata Di riso Come vi dicevo Il masdam Grande E il fontal Deanne Due confezioni Di panna Fresca Perché Giorgia Vuole fare Un tiramisù Che abbiamo in casa E ci andava La panna Poi Il filone A fette Le fette Biscottate Integrali Perché Ho intenzione Anche di preparare Una cosa Specialissima Per me E se poi È buona Anche per i bambini E poi Questo qui Per Luca Il giochino Memory Di Star Wars Ci sono 48 Schedine Speriamo Che gli piaccia Adesso Vi faccio vedere L'ultima cosa E poi Abbiamo finito E poi Abbiamo preso Sette casse D'acqua Questa qui No Non è la guizza Quella che abbiamo preso È quella Vabbè Fatta così Da due litri Però è quella Dell'Eurospin Ah ecco In frigo Aspetta Eccola È questa La Gineva Abbiamo preso Sette casse Di questa qui Allora Io penso Di avervi fatto Vedere tutto Adesso vi faccio Vedere un attimino Il frigo Guardate È pieno Il stracolmo Tra un po' esplode Sabrina Sentirei No Ti devi lavare Così E poi anche il freezer E niente Questo è tutto Spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Come on, come on, come on, come on! Ha!